Sono Ivana Illich, faccio questo lavoro da 30 anni ed è un lavoro che mi è sempre piaciuto, l'ho scelto, tant'è vero che ai miei tempi la facoltà di odontoiatria non esisteva, quindi ho dovuto studiare medicina, laurearmi in medicina e poi prendere la specialità in odonto, vuol dire 9 anni di studi, questo sicuramente dà la sicurezza che il lavoro mi è sempre piaciuto e mi piace. Per me è molto importante pensare alla funzionalità e all'estetica della bocca, che sono fondamentali per il benessere di ciascuno di noi, di tutti. Oltretutto è un lavoro di grande responsabilità ma anche di grande soddisfazione. Ogni volta che fai qualcosa che ha finalità positive per le persone, ti sembra di fare qualcosa di veramente importante, di bello. Una visita specialistica, quindi una visita di tutto il cavo orale, di tutti i denti, un'ablazione del tartaro con un apparecchio a ultrasuoni e uno smacchiamento con una pasta apposita a microgranuli. Sì, si può offrire un 20% di sconto a tutti coloro che dopo la visita odontoiatrica troveranno di doversi occupare di qualche altra cosa, di qualsiasi origine sia, che sia di protesi, che sia di conservativa, che sia di endodonzia. Un'attenzione perfetta, si deve aspettare una visita assolutamente fatta nel modo migliore e anche una cura nel modo migliore, se ho sempre stato una professionista seria. Vi saluto tutti quanti e spero di vedervi numerosi col vostro coupon. Un'attenzione perfetta, si deve aspettare un'attenzione perfetta,